Curizza, perché? Bianche sono le vene Non ho capito Sono le vene bianche come polto Ah, non sai te, vuoi aprirne i vene, ha detto, che curizza Sei contento delle chiavi? No, no Non casino Fai mi tracca Fa male, piano Piano piano, titi Adesso non smetti le braccia Non, non, vabbè, vabbè Vabbè Vabbè, vabbè Vabbè, 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 vabbè Ti sento io E non ti, vabbè Non ti, mi hai dato Vabbè O, o, senti tu? Vabbè, vabbè Vabbè, senti tu? Perché hai pesi che hai no, 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 ah, sì, perché, sì, perché, perché lo sai, perché quando ti dormi, tal peso e letto, va al centro e io mi carico lì, allora mi dormo tutta così, perché, 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 perché. perché. Tantento da? Ti ha visto come è il babbo? Ti ha detto al secondo il campanello per te guarda prima per di Portofoli Io, io, io e sincato, io, 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 adesso, bl***, уже попрощались ключи забыла отдать но это тебе компонентность у тебя уже spirit 2 volt и дичи guarda carlo fermo я не знаю давай но римушу это цема grazie mille per tutto grazie mille grazie ciao 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 mamma è un fisico è un fisico è molto bello è un fisico 30 volte al giorno qui stupi le scalle quanti volte le fa non è poco è uguale ma è un fisico è bello è un fisico 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 perché tu hai detto ma è Marina io senza Marina non è contenta avevo dato vacanze a costo zero avevo mangiato perché? è un fisico perché? perché perché è un fisico 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 qui ha dato è un fisico un fisico un fisico ha un fisico io volevo potercippare l'acqua, ma rvola la voce ah, l'acqua, l'acqua, l'acqua! grazie mille grazie solniško вышlo так живete и втянули, лопатки соединили, как мне, ладно, не буду повторяться, прям мешает этот живот да, да, над practicу днем, да, надalно, да да, надално, оттудаة, сиşabtи, сишето, синистра простёрка, Карло, синийстра я ненавш Services ng sle wrist ecco bella calabria grazie grazie oi, ruca bolita grazie andiamo subito per magari banio a dove non abbiamo fatto neanche colazione non abbiamo fatto niente ma da banio no non lo so vai cosa dobbiamo far vedere il documento? no non 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 mi piaceva con sportive stannol тогда же ребенок ребенок даже сказал его племянник сказал говорит смотри в тапках от морских прилетел эльвира тоже смеялась это как оденется летел как в этот senti di me ma come come fai senti di me io c'è una stagione c'è una stagione c'è una stagione è una stagione ecco, 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 ecco io ti ho detto come stagione ma cosa tu non ti ho fatto senza me? Andi, andi ando dice tu mi dice tu mi dice übira, uscii noi ti ho detto io le diciamo è un stagione u teve questo è tutto e usciò uber테, usciò no, è preparato, non è per me magari c'è il polvere della marifanna come poi stai, dove ti lo prendi? magari c'è il polvere della marifanna guarda 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 guarda! guarda! guarda, l'acqua, l'acqua mafio su penniglia tutto stricchio, mi sono troppo, non mi sono troppo. Il tuo tuo cuore, Carlo, mi spettiamo qui, perché si no puoi. Dessere, non so tu puoi. è buonissimo ci stiamo molto sembrano che radere andiamo a tutti fri a tutti fri quando tempo ancora ci abbiamo? non ci sono 3 minzini non ci sono facciamoci il giretto guardiamoci aspetta guardiamoci qua non ci sono c'è un'escrizione, che ho chiesto ho chiesto così, che erano delle caratteristiche qui ci si è così anche se sono stati classi, sono stati al 100% e al 100% è vero, è vero c'è l'amore c'è l'ancome c'è crema 97 euro tutta shim пользуется 48 смывка для лица кто-то например не могу себе позволить семьяки что-то такое а это не семьяки что-то такое крем а это что он и пионер волюмы а то для волос так это а куда он еще меня бросил но девочки короче парфюм меня нырбери бурбери 144 я в калабре машине если такого покупать там салями там это вот видите нет какая красивая бутылка розовая 21 классно еще очень красиво бутыга роз шампанского типа розового красиво оформление я вот я одна из тех баб которые я платкой на оформление вот если есть оформление все нет здесь идите free такой скидки вот как скидка может есть они дешевле но нету таких отдыхов маленьких вот они которые дешевые здесь вот они москина вот этим вот по 19 евро и вот они чарути 19 90 я их беру тут сколько тут 30 миллиметров 50 миллиметров вот они по 20 у меня дома есть открытая 1 за поэтому на что какое что на на авгав находится реш UN che ti puoi prendere qua da 20 euro, poi non compri da nessuna parte con questo prezzo Carlo sì però, ma questo è il Moschino come si vuole prendere, ecco il Hugo Boss, ecco il GRI, ma cosa c'è questo? ma cosa stai qui con il sconto, come si stai dicendo? io sto e stai e mi guarda, uno è un'ho è un'ho, 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 è un'ho è un'ho, 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 è un' ma scrive i miei posto femmini perso masca sopra come pahmett gucci push у меня вот такие вот были нет так от них башка болела это капец какой-то интересно сейчас он не будет болеть сэнти а вот такой стягучий куала с такими винила маляло теста на кусте по 50 евро стоит между прочим ну я просто других духов не знаю поэтому я нюхаю что бутылочка понравилась и так по карабана боно карабана а мне не перенграю на ho goma est masca rispondi salami donna prendi questa qui che costa 30 euro aspettami fama la giallunghi biri pericapare 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 dotato mi prende vitu e prende vode di chi è la mia giunica operativa per lo so bello questo prendi l'occhio come un po' e kevin klein classico sempre kevin klein non ti sbali costa 30 euro ma comunque kevin klein sempre просто я думаю что что-то новенькое себе взять понимаете а у меня не складывается с новеньким чарути чарути для меня да можно было сказать что я его женщину он бы мне купил но по карабана возьми мне а для них уфициально для всех людей и санатаронна и не забывайте не забывайте, не забывайте, не забывайте Сульману и Кулиоаннензар скажите всем официально что ты меня не бросишь ты как? слишком сухерозный, да? да не нравится? не, не нравится, но эффективно мне не нравится non mi sento, non sento niente stai 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 lo ti toglie l'ama ma non è vero l'asca un'azca no 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 senti pure pure prima regalata due belle, non c'è un bel male aci ah, moschino, senti non, non, io devo assompeno bel male ce, ma ti è che non è voluto ah, aci bel, no? da, da, da guarda, mi piacere moschino gucci scusa certo carlo non lo fanno portare no 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 adesso non vedete fritti dimetano nella borsa si vedete e poi prendere quella che vuol col tutto da da un'lana конечно руки чешутся я бы попробовала я бы вот эти золота i fanno e pretzel e pretzel kimi per me da если вот эти за 20 я еще понимаю но они обалденные я просто их обожаю и просто я их обожаю Questa è femminile o maschile? Questa penso femminile. Cerruti? Cerruti è femminile. Perché non lo prendi? Io ho preso cerruti. No, non ce la vuoi prendere. No, volevo prendere una io e uno pensava che mi compravi tu. Io te lo compro quello se lo vuoi e te lo prendo. Da? Sì. Allora io prendo un altro. Io cerruti te lo pago volentieri. Perché io questi prezzi non li trovo finiti. Carlo, per favore. Sì o no? Perché mi viene ansia? Aspetta, non è che si perde il volo. Questa è femminile o maschile? Va bello, davvero. Se non sei la mia donna ancora. Guarda, amore, amore. Questa, guarda. Mi prendi una così? Io ce l'ho tante, diverse. Ma, qui c'è questo? Aspetta, due litrovì. Questa, di due litrovì. Cosa, per cento è, non? Grazie.